Siamo ricaricati un po' le batterie tutti quanti e ora con una serie di allenamenti ci concentreremo e ci alleneremo per una partita molto importante sia per noi che per la città, lo sappiamo bene quindi la prepareremo nei minimi dettagli e ci faremo trovare pronti. Siamo al secondo allenamento quindi ci siamo lasciati con una bella partita, con una bella vittoria che era fondamentale chiudere l'anno con una vittoria però ora abbiamo questa partita dove tutti noi sappiamo dell'importanza e che però dobbiamo concentrarci sia singolarmente nel dare tutti quanti il massimo e tutto quello che abbiamo dentro di noi e poi anche di squadra perché comunque ho notato anche una crescita collettiva. Quindi dobbiamo continuare nel dimostrare che siamo cresciuti anche di gruppo. Sulle 100 presenze in blu cerchiato un bel traguardo, tu tra l'altro sei un giocatore che non ha cambiato tante maglie quindi si lega molto alle squadre in cui gioca. Sì, questa è la maglia con cui ho giocato di più nella mia carriera in Serie A quindi sono veramente molto orgoglioso e contento di aver raggiunto questo traguardo, di averlo fatto con questa maglia. Negli ultimi minuti di aver indossato la fascia di capitano per me è stato un onore e quindi individualmente sono contento anche di essere tornato anche in campo dopo l'infortunio che mi ha tenuto fuori per un bel po' di tempo. Quindi è stato un 2015 sotto un punto di vista molto positivo, sotto un altro molto difficile, però anche stimolante, anche superare un infortunio del genere. Quindi è comunque un 2015 positivo e quindi cercheremo tutti quanti di far iniziare questo 2016 in maniera positiva.